Musica Prime immagini della nostra puntata dall'ex tabacchificio Cafasso a Pestum dove fervono in questo momento i preparativi per l'apertura della borsa del turismo archeologico di cui parleremo oggi nel corso della nostra puntata. A tutti voi buongiorno, ben ritrovati. Anche oggi una puntata ricca di temi. Parleremo appunto di turismo in primo piano ma in apertura andiamo a Pestum. Da domani di nuovo torna la borsa del turismo archeologico, l'evento che intende promuovere le destinazioni di richiamo turistico proprio per i loro beni archeologici e soprattutto promuovere le opportunità economiche dei loro territori. Allora tra aspettative e preparativi andiamo in diretta con Giuseppe De Caro. Sì, buongiorno da Capaccio Pestum, comune del Salernitano che da domani fino a domenica ospiterà la ventitresima edizione della Borsa Mediterranea del turismo archeologico. Un grande evento internazionale che l'anno scorso è saltato causa pandemia e che quest'anno torna. Si ripresenta questo evento. Con quali obiettivi? Lo chiediamo al direttore e fondatore della Borsa Mediterranea del turismo archeologico, Ugo Picarelli. Buongiorno. Buongiorno. Credo che con una location strepitosa come questa che il sindaco di Capaccio Pestum mette a disposizione si può raggiungere qualsiasi obiettivo sempre rimanendo nell'umiltà e lasciando la presunzione senza andare oltre. Veramente possiamo dimostrare che a livello internazionale si possono fare buone cose. La Borsa Mediterranea del turismo archeologico qui a Pestumo da 22 anni dà un'immagine internazionale al sito UNESCO che nel 1998 fu inserito nella lista del patrimonio. E quindi da quest'anno ancora più che mai consapevoli con tre proposte, tre intuizioni a livello internazionale, nazionale e locale. Solo per lo sviluppo locale e per le future generazioni. Parleremo poi delle proposte più avanti ma lo ricordava il direttore Picarelli finalmente dopo oltre un ventennio la Borsa Mediterranea del turismo archeologico ha una sede stabile, l'ex tabacchificio Cafasso che vedete alle mie spalle, ne vedete l'ingresso. Un esempio sindaco Franco Alfieri, sindaco di Capaccio di archeologia industriale che incontra la Magna Grecia. Ma certamente c'è l'orgoglio e la soddisfazione innanzitutto di aver recuperato, ecco un esempio di archeologia industriale, di avergli dato una destinazione per la Borsa e quindi abbiamo recuperato anche la sospensione dell'anno scorso alla grande. Ma soprattutto queste sono quelle opere che cambiano lo scenario socio-economico, cambiano lo stato d'animo, queste sono quelle opere ed è un contenitore per la cultura, un polo fieristico che possono cambiare lo stato d'animo dei cittadini per farli restare qua, per non chiudere un'attività, per aprire un'attività. Quindi cambiano l'economia, possono creare ricchezza, lavoro, quindi siamo davvero soddisfatti e contenti. Oltre la Borsa c'è altro e quindi c'è l'orgoglio come amministratore di aver colto un importante risultato e di aver mantenuto un impegno programmatico. Ecco, l'ex tabacchificio Cafasso è entrato nella disponibilità del comune di Pestum solo a fine giugno, in pochi mesi è stato riqualificato dall'amministrazione. 150 gli espositori che saranno presenti alla Borsa, provenienti da 15 paesi, fra i quali Australia, Cuba, Malesia, la martoriata Siria, 100 conferenze, 400 relatori, 12 eventi unici. Quali le nuove proposte, direttore Picarelli? Le nuove proposte di accompagnare i giovani in questo futuro, soprattutto le start-up del turismo, con 14 imprese, i nostri ospiti, ma soprattutto l'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, che porterà un modello, un'esperienza che poi sarà replicato in tutti i territori italiani, partendo dal Cilento, partendo anche dall'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento, presieduto dal sindaco di Capaccio Pestum. E soprattutto Archeo Incoming, la domanda di prossimità, la domanda nazionale, quella che il Covid ha cercato di riqualificare, e quindi i tour operator specialisti che hanno sempre fatto otto going, ma che in ogni caso da quest'anno è sempre più le destinazioni del sud partendo da Pestum. Ecco, saranno coinvolti ovviamente anche il parco archeologico, il museo, la basilica. Sindaco Alfino, un'ulteriore occasione per Pestum per essere al centro dell'attenzione del mondo? Certamente, io lo ripeto sempre, è un grande orgoglio essere sindaco di Capaccio Pestum, però c'è un grande gioco di squadra dietro questo successo che deve continuare e deve sempre di più coinvolgere l'intero territorio. Da soli non si va da nessuna parte, quindi ecco, coinvolgere tutti, oltre anche il parco archeologico, perché Capaccio Pestum ha tante bellezze, il territorio ha tante... siamo in un parco nazionale, quindi c'è tutto un mondo da scoprire, stiamo collaborando con grande sinergia, con grande entusiasmo e la borsa è una grande vetrina per mettere in vista anche il patrimonio archeologico minore. Con l'assessore Casucci c'è proprio questo grande impegno che abbiamo assunto. Oltre la borsa c'è questa necessità di lavorare insieme per mettere a regime tutto il patrimonio archeologico della regione Campania. Grazie ai nostri ospiti, ricordiamo solo in chiusura che l'ingresso alla borsa mediterranea del turismo archeologico è gratuito, ma bisogna prenotare online sul portale dell'evento, è necessario per accedere al Green Pass e ovviamente c'è l'obbligo di indossare le mascherine. Grazie da Pestum è tutto, la linea può tornare allo studio. E grazie a Giuseppe De Caro e adesso voltiamo pagina.